Le otto in punto, buongiorno da Marco Bellandi Giuffrida, al microfono di Liberi Oltre le Illusioni, per un'altra puntata di World Wide Law, la rassegna stampa internazionale con un taglio opinionistico-analitico che va in onda ogni sabato a corredo della rassegna quotidiana che ogni giorno viene condotta dai ragazzi della redazione internazionale, coordinati da Andrea Alesiani. Oggi partiamo da quello che sta accadendo sul fronte medio-orientale, dove questa settimana e soprattutto nelle ultime ore si sono intensificate le pressioni e le minacce del gruppo libanese hezbollah nei confronti di Israele per un cessate in fuoco nella striscia di Gaza. E per avere un po' di contesto su cosa sia cambiato negli ultimi giorni, leggiamo subito un articolo a filma di Nader Dorgman, inviato a Beirut della testata britannica Middle East Eye, molto vicina alla causa palestinese, che spiega come le tattiche di Hezbollah siano cambiate dopo l'uccisione da parte dell'esercito israeliano di Taleb Sami Abdallah, uno dei comandanti in capo delle milizie libanese di Hezbollah. Hezbollah infatti ha reagito lanciando oltre 200 missili contro Israele e promettendo, soprattutto negli ultimi giorni, ulteriori attacchi. Questa escalation, si legge nell'articolo, si inserisce in un contesto di ostilità crescente con attacchi sempre più sofisticati da parte di Hezbollah. Dopo l'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre, la conseguente guerra a Gaza, Hezbollah infatti ha iniziato una schermaglia lungo il confine meridionale del Libano per sostenere Gaza e alleviare la pressione su Hamas, dimostrando tra l'altro capacità molto avanzate dal punto di vista militare, abbattendo droni israeliani, lanciando missili contro aerei e colpendo unità di difesa aerea. Gli esperti suggeriscono che Israele non si aspettava un tale livello di audacia da parte del gruppo libanese. E l'escalation è infatti, come dicevo in apertura, legata, e lo dice bene questo articolo di Nader Dorgman, allo stallo nei negoziati per il cessato il fuoco a Gaza, mentre l'Occidente e Israele sperano di costringere Hamas a cedere, Hezbollah utilizza le sue tattiche invece per fare pressioni su Israele. Ma per capire cos'è successo negli ultimi giorni concitati dopo che mercoledì Nasrallah, il numero uno ora di Hezbollah, ha fatto un discorso molto minaccioso nei confronti di Israele, leggiamo che cosa scrive su Haaretz in un articolo molto interessante, Yanik Kubović, che sottolinea come l'esperienza accumulata da Hezbollah, grazie alla collaborazione con Russia e Iran in Siria e alle operazioni in Yemen e in Qatar, tutto questo abbia reso il gruppo capace di sfidare le difese aeree israeliane in modo efficace, un cambiamento che ha reso obsolete le strategie tradizionali di difesa di Israele che si basavano principalmente su barriere fisiche e di difesa territoriale. E nonostante l'esercito israeliano, si legge su Haaretz, abbia abbattuto centinaia di droni dall'inizio della guerra, il tasso di intercettazione non è paragonabile a quello dei razzi grazie all'Iron Dome. Gli attacchi di droni sono difficili da prevedere e intercettare, dato che possono cambiare obiettivo durante il volo. E in sintesi, questo è il tema principale dell'articolo che troviamo su Haaretz, la crescente minaccia dei droni di Hezbollah, rappresenta una sfida complessa per le difese aeree israeliane, richiedendo nuove strategie e tecnologie per proteggere il paese da attacchi sempre più sofisticati e sempre più precisi. E l'articolo di Haaretz fa il paio con un altro articolo apparso questa settimana sulla CNN due giorni fa, in realtà, che riportando le parole di un senior admin officer degli Stati Uniti d'America, ha scritto che il sistema di Iron Dome potrebbe essere overwhelmed, cioè sopraffatto dalle capacità di Hezbollah, un'affermazione che ha fatto molto discutere, pare anche che sia stata smentita a un certo punto, però vestata ed è giusto darvene conto. E, sempre a proposito della stampa statunitense, voglio segnalarvi alcuni commenti che sono apparsi in questi giorni sui principali media outlet americani. Mark Champions su Bloomberg, per esempio, ha scritto che con il gabinetto di guerra di Netanyahu messo da parte e con i colloqui di pace in stallo, la sua più grande debolezza, la più grande debolezza di Netanyahu è emersa. Non ha infatti un piano per porre fine a questa guerra. E dopo la fase calda che dovrebbe terminare nelle prossime settimane, si prevede infatti che le incursioni dell'esercito di difesa israeliano continueranno. Ed è questa una sorta di ricetta, la chiama Mark Champions su Bloomberg, per una guerra e un'occupazione senza fine. Peraltro, questo pare essere una strategia studiata da Netanyahu, perché effettivamente, ricorda Mark Champions su Bloomberg, se si raggiungesse la pace, l'ultradestra che lo sostiene farebbe cadere il suo governo e lo esporrebbe al rischio di finire in carcere per le sue molteplici accuse di corruzione, dalle quali, sappiamo, Netanyahu si sta salvando anche grazie ad alcune leggi ad personam approvate dal suo governo. Poi voglio anche segnalarvi il commento di Thomas Friedman, apparso sul New York Times, secondo cui gli alleati americani di Israele, incluso il presidente Biden, non hanno ancora realizzato quanto radicale sia diventato il primo ministro israeliano. La sua coalizione da incubo, la definisce Thomas Friedman sul New York Times, una coalizione formata da leader ultraradicali, vuole annettere Gaza e riempire la Cisgiordania di coloni. Questo è il momento dell'ultimatum. E gli Stati Uniti devono dire a Israele, secondo Thomas Friedman, di accettare la richiesta di Hamas, porre fine completamente alla guerra in cambio di tutti gli ostaggi israeliani. Perché, secondo Thomas Friedman, l'unica alternativa è sprofondare in una guerra senza fine, mentre si sta aprendo l'altro fronte con Hezbollah, di cui vi abbiamo parlato in apertura. C'è però una soluzione che Netanyahu potrebbe accettare, secondo quanto scrivono Dennis Ross e David Makovsky sulla Washington Post di questa settimana, e si baserebbe sulla smilitarizzazione di Gaza e sulla garanzia che non possa mai più essere militarizzata. Prima di tutto lasciare che Israele distrugga abbastanza laboratori di armi, strutture di posizione, di produzione, depositi e tunnel di Hamas, così da rendere impossibile la loro ricostruzione. Poi si tratterebbe di coinvolgere l'Egitto e gli Stati Uniti per fermare il contrabbando e monitorare tutti i materiali di ricostruzione. E se Israele può concordare un punto finale, molte altre cose possono andare a posto. Altrimenti, questo secondo Dennis Ross e David Makovsky, ci saranno scenari molto peggiori all'orizzonte. Devo dire, condivido molto di più invece l'analisi di Thomas Friedman sul New York Times, che a mio parere sembra più realistica, considerato anche la situazione di politica interna del governo israeliano. Restiamo in Medio Oriente per la seconda parte di questa puntata per darvi qualche aggiornamento rispetto a quello che sta succedendo nel Mar Rosso, dove questa settimana, secondo il quotidiano online al Monitor, media outlet statunitense con un focus sul Medio Oriente, gli Ihuti avrebbero affondato il 19 giugno un'altra nave commerciale, questa volta greca, la nave Tutor, ed è la seconda nave commerciale ad essere affondata dagli Ihuti, dopo la Rubimar, battente bandiera del Belize, che fu affondata a fine marzo, tra l'altro ricorda al Monitor, causando un ingente danno ambientale. Una delle più interessanti analisi sull'escalation e sulle conseguenze che potrà avere nel Mar Rosso e soprattutto su come fermarla è un articolo, un contributo di Gregory Johnson, studioso ed esperto di Yemen, che questa settimana ha pubblicato questa analisi sull'Arab Gulf State Institute in Washington. Gregory Johnson, che lo vedete qui, vedete qui l'articolo in sovrimpressione, è anche autore di un saggio molto interessante che aveva fatto parte in passato dei miei consigli di lettura e che si intitola The Last Refuge, Yemen, Al-Qaeda and America's War in Arabia. Analisi che tra l'altro fa il paio con un altro contributo apparso sul sito del think tank americano Responsible Statecraft, a firma di Giorgio Caffiero, il quale si domanda se effettivamente quello che sta succedendo nel Mar Rosso significhi o meno che gli Houthi stiano vincendo questa guerra. E la prospettiva che propone Giorgio Caffiero è che effettivamente abbiano messo in difficoltà la coalizione occidentale nel far fronte ad una situazione e ad un attacco di questo tipo che in precedenza non era stato affrontato e quindi non era stato studiato. E dal Medio Oriente torniamo invece in Europa dove, come avete sentito dai ragazzi, questa settimana non c'è stato l'accordo sperato sul nome del Presidente della Commissione Europea e sta sfumando sempre di più l'ipotesi di una von der Leyen bis. Su questo tra l'altro segnaro l'apertura di ieri sera dell'edizione online del sito politico EU che ha insomma un focus su quello che accade a Bruxelles perché appunto ha sede a Bruxelles l'headquarter del giornale. Bene, invece si fa sempre più viva l'ipotesi di Antonio Costa come Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, nonostante lo scetticismo del Partito Popolare Europeo. E a tracciare un ritratto di quello che probabilmente sarà il prossimo Presidente del Consiglio dell'Unione Europea è questa settimana il settimanale portoghese Vigiao che sulla copertina ha un titolo abbastanza significativo, lo state vedendo in questo momento. Le sette vite di Antonio Costa, dopo aver visto crollare, si legge nell'occhiello, la sua maggioranza assoluta con l'operazione influencer, lo dico per ricordarlo l'inchiesta che ha portato alle sue dimissioni lo scorso aprile, un'inchiesta che si basava su alcune intercettazioni telefoniche, peraltro anche molto controverse nella loro esistenza. Torniamo a leggere il titolo. L'ex Primo Ministro è sul punto di diventare una delle personalità più influenti d'Europa, così annuncia Vigiao sulla propria prima pagina. E nelle pagine interne Vigiao ripercorre la lunga carriera di Antonio Costa, che è diventato socialista all'età di 14 anni, deputato nel 1991, segretario di Stato nel 1995, ministro nel 1999, poi deputato al Parlamento Europeo nel 2004, sindaco di Lisbona nel 2007, leader del Partito Socialista dal 2014, Primo Ministro nel 2015, è vincitore della seconda maggioranza saluta nella storia del suo partito nel 2022, fatto dimettere poi nel 2024, a seguito dell'inchiesta giudiziaria che ha preso il nome in Italia di operazione influencer, prima quindi di risorgere dalle ceneri con la proposta che sta energendo in queste ultime ore, che egli diventi il presidente del Consiglio dell'Unione Europea. Peraltro il settimanale portoghese ricorda che l'indagine che ha portato alle sue dimissioni è andata un po' sgonfiandosi nel corso del tempo e nonostante siano stati fuggati alcuni sospetti, però Costa è ancora sotto processo per abuso d'ufficio. Nonostante ciò però il cinquantotenne nativo di Lisbona, i cui genitori sono originari di Goa, ex colonia portoghese in India, rimane il favorito per guidare il Consiglio europeo. Il presidente e il nuovo primo ministro del Portogallo, Marcelo Rebello, de Sousa e Luisi Montenegro, entrambi di destra, hanno già dato il loro sostegno a questa ipotesi. E sulla scena europea ricorda Vigiao che Antonio Costa è sostenuto da Ursula von der Leyen e anche da Emmanuel Macron, riconosciuto quindi dai suoi pari, in particolare per aver guidato un paese per otto anni e mezzo, una longevità davvero rara tra i suoi colleghi socialisti del continente. L'aura dell'uomo che si vantava di aver voltato pagine sull'austerità è rimasta intatta e gli conferisce un certo prestigio in Europa, ricorda Vigiao. Per quale motivo? Perché ha sempre rispettato le regole riducendo il deficit e il debito e dimostrando il suo particolare estro per gestire il bilancio, ricostruire Enigmi è il passatempo preferito di Costa, che ha camminato per i corridoi di Bruxelles per decenni e ha trascorso gli ultimi tre anni di vita a farsi strada politicamente fino ai più alti livelli. Così si legge in questa generosa descrizione che ne fa la rivista portoghese, che ricorda che Antonio Costa potrebbe essere nominato già al prossimo vertice del 27-28 giugno e se fosse nominato si unirebbe alla lista dei portoghesi che hanno presieduto istituzioni internazionali. Ricorda la rivista per esempio Giuseppe Manuel Barroso, ex presidente della Commissione europea, Mario Centeno, presidente dell'Eurogruppo e Antonio Gutierrez delle Nazioni Unite. Grazie a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici per averci seguito in questa puntata. L'appuntamento per questa settimana, gli appuntamenti per questa settimana della redazione internazionale sono molteplici, ve ne segnalo solo uno perché è quello ormai già definito. Mercoledì sarà pubblicata un'intervista che ha condotto Andrea Alesiani a Nama Baeli sulle elezioni in Iran. Grazie a tutti voi che siete stati all'ascolto, l'appuntamento con noi invece è al prossimo sabato.